Sì, tu magari, Ludovica, fai una gentilezza, farle presente che noi qui abbiamo sempre, se vuole, la sua sedia. Cioè, quando vuole, noi siamo qui pronti per intervistarla dalla mattina alla sera, insomma. Quindi c'è la sedia di Giorgia, ha visto Gasparri? L'abbiamo messa qui perché non si sa mai che abbia voglia di venire a... Anzi, magari la mettiamo... So che gli autori non vogliono, ma la metto al centro della scena, anche questa volta. E fa l'attrezzista. Faccio l'attrezzista. Finalmente un lavoro adeguato. Non si butta via nulla. Dice per lei? L'attrezzista. Dice per lei? Ah, scusi, senatore, pensavo dicendo per lei. Posso andare in pensione. L'ho lasciata qui la sedia per il confronto di Giorgia Meloni. Posso andare in pensionato? Anche un po' di cabaret. No, no, questo è per il confronto. Lei è giovane. Secondo me è giusto che il Presidente del Consiglio, visto che si cambia nella elezione europea...